Nessuno ci vieta di sognare una moschea, una vera moschea a Trieste. Mentre a Moufalcone la comunità islamica abbassa i toni fino a scegliere il silenzio stampa, almeno fino al pronunciamento il 19 marzo del Consiglio di Stato sulla questione delle preghiere nei centri islamici, a Trieste fanno discutere le parole dette ieri a Telequattro dal presidente Omar Akram su una moschea per ora come sogno nel cassetto. Tutti i pareri raccolti, a prescindere dalla parte politica, partono dalla libertà di culto garantita dalla Costituzione, ma le conclusioni naturalmente sono diverse. In fondo il presidente ha detto soltanto di avere un sogno, quindi di sogni parliamo, ma a questo proposito c'è da dire che oggi a Trieste non ci sono semplicemente le condizioni, perché ovviamente non mi risulta che ci siano classificazioni urbanistiche di luoghi di culto né nelle corde di fratelli d'Italia dare deroghe in generale contro la legge. Una differenza rispetto alle altre religioni che hanno luoghi di culto a Trieste, c'è da dire che l'islam non ha un'intesa con lo Stato italiano. Non mi stupisce e non mi preoccupa l'idea di pensarci. A Trieste esiste già una moschea e non mi pare abbia creato dei problemi. L'importante è capire come si realizza. A Roma c'è una grande moschea che è un luogo di una grande bellezza, è un luogo ecumenico dove tutte le regioni si incontrano, è un grande luogo di cultura. Quello che è successo a Monfalcone dimostra semplicemente che quando la politica decide di cavalcare strumentalmente le divisioni, queste divisioni si creano. La persona da uomo libero che rispetta le libertà altrui, ma che pretende che le libertà vengano rispettate anche dall'altra parte, io mi pongo il dubbio dal punto di vista della reciprocità. E allora esiste la possibilità da parte della chiesa cattolica o cristiana di poter erigere delle chiese, dei duomi, delle cattedrali in terre dove c'è l'islam che non permette, ovviamente questa è già la risposta, la stessa libertà di culto. È normale che una comunità come quella islamica aspiri ad avere un luogo dove celebrare le proprie cerimonie che non sia un semplice luogo riadattato, ma un vero e proprio spazio dedicato al culto. Tra l'altro quello che sta avvenendo ne avviciniamo a Monfalcone è abbastanza emblematico, l'amministrazione nei fatti impedisce a una comunità molto corposa di poter professare appunto la propria religione che ricordiamo è un diritto. Allora è evidente che la soluzione non può che essere quella di individuare appunto degli spazi congrui, di costruirli appunto di individuarli in strutture già esistenti.